Ciao a tutti ragazzi, sono qui a presentarvi la nuova Tanfoglio Stock 1, pistola adatta sia per il tiro dinamico che per i DPA, adesso la guardiamo insieme, questa è la mia Stock 1 che è stata comprata 10.000 colpi fa, la pistola in dotazione ha due caricatori, il suo kit per la pulizia, marcato Tanfoglio, nella valigetta sono presenti tutti i vari opuscoli della Tanfoglio, due caricatori da 15 colpi, come dicevo prima il kit della pulizia che comprende i vari attrezzi per lo smontaggio e la pulizia dell'arma, adesso passiamo a vedere come è fatta l'arma, mettiamo via questa, questa è una Tanfoglio, controlliamo chi si scarica, l'arma monta guancette in alluminio della Tanfoglio che ho fatto io anodizzare in rosso e la pistola la pistola è brunita, ha la canna cilindrica lunga 113 mm, è stata montata una sicura maggiorata perché così mi consente di avere maggior appoggio nel pollice quando sparo, gli è stato aggiunto questo Red Hot che si chiama Barris Fast Fire 3, 8 MOA che a me piace molto, è molto facile da settare, comunque farò un video a riguardo a breve, la pistola mi piace molto, pesa 1200 grammi circa, ha una slitta nella parte inferiore del fusto che permette il posizionamento di torce e puntatori laser, in questa zona, è molto ben distribuito il peso, la tacca di mira che sarebbe al posto di questo è regolabile e il mirino è intercambiabile, rispetto allo Stock 2 ha un'elsa molto più pronunciata e ha queste rigature che servono per un'impugnatura migliore, la pistola è ottima, una gran pistola, adesso procediamo allo smontaggio e alla verifica. la canna, come dicevo prima, è lunga a 113 mm, ha una rigatura classica, ha una rigatura classica, poi qui abbiamo il guida molla, la molla, che in questo caso ho messo una a 10 libre, perché io uso le palle da 124 grani e mi trovo molto meglio, la pistola dopo 10.000 colpi è perfetta, non ha un segno di usura, è una pistola che può sparare sia in doppia azione che in singola azione, il peso di scatto è regolare per le gare di tiro dinamico, quindi non c'è nessun tipo di problema, è una buona arma ed è venduta al pubblico ad un prezzo di circa 1200 euro, la pistola è molto precisa, ha pochissimo rinculo, perché ha un'ergonomia fantastica, così che può essere tenuta in modo perfetto, quando si impugna, niente di più, se avete delle domande o altre cose, contattatemi pure e scrivete in fondo nei commenti, se volete avere informazioni maggiori sulla pistola, vi lascio in descrizione il link del sito della Tanfoglio, dove potete guardare anche altri modelli di Tanfoglio, grazie, al prossimo video, ciao!